Temi e variazioni Temi e variazioni più che una mostra, anzi la quarta edizione di Temi e variazioni a partire dal 2002 Un formato che la Peggy Google M Collection propone come percorso nuovo Temi e variazioni più che una mostra, è un viaggio, un percorso Sala per sala, nelle 11 spazi diversi, diversi per scelta, diversi per cronologia, diversi anche proprio per tematica La mostra si snoda effettivamente come una sorta di racconto che mi sono in un qualche modo divertito a fare per dedicarlo al pubblico Il titolo è Temi e variazioni, l'impero della luce È dedicato, è dovuto a forse il quadro più amato della collezione Peggy Guggenheim Che è l'impero della luce appunto di Magritte Non è all'inizio della mostra ma è assolutamente il perno Io direi quasi il gomito di questa articolazione espositiva Ed è quindi arriva dopo un primo percorso, arriva dopo quattro sale Si inizia per i temi, l'idea della figura degli occhi, quindi il mondo femminile E sono temi che sottendono sempre una trappola Temi e variazioni quindi è un tema, l'idea di un soggetto È il caso quindi della figura straordinaria della giovane ragazza coricata con l'album di Degas Ma anche, come dire, l'idea di un dialogo parasintattico al di fuori di ogni cronologia Quindi Degas, su richiesta del curatore agli artisti, in questo caso Kiki Smith Dialoga con un'opera scelta dagli artisti o addirittura nella contemporaneità eseguita dagli artisti Governa, anzi guida il visitatore con il suo occhio, con la sua presenza, in questo caso anche molto forte Nella prima sala, in persona, Peggy Guggenheim Quindi fotografata da Andrea Kertège, specchiata in uno specchio concavo Quindi introduce questo tema dell'occhio Appunto, temi e variazioni è un groviglio, è una sorta di gradum di conoscenza Ma soprattutto temi e variazioni è un divertimento attraverso le interpretazioni di un soggetto Quindi Matisse con Pont Saint-Michel del 1903 dialoga in un modo serrato, fortissimo Apparentemente solo per soggetto all'inizio con Gabriele Basilico I Becker quindi con Sironi e, devo dire, l'idea spaziale marziana di Ruff Con queste foto di una sonda che fotografa gli anelli di Saturno Dialoga con la città intera di Max Ernst Riscoprire la collezione di Peggy e anche riscoprire nuovi collezionismi privati Dialogare con la contemporaneità Calzolari, Rotko e Duchamp L'idea proprio di una trasversalità, di una coralità Temi e variazioni è anche questo Cioè l'idea di una lavagna che si riempie di gesti E quindi si acceca nella sala dell'oscurità in Tuombli In Corridoio Buio si è scelto proprio questa mancanza di luce per sottolineare l'impero della luce L'orizzontalità di Judd con il sottosopra e l'orizzonte di Magritte E l'ironia fortissima, oggi forse necessaria, di quest'iper pop, di questo nuovo pop di Nate Lohman Che ossessionato dalla figura dell'albero, proprio del quadro di Magritte Propone questa possibilità di schermo del nuovo albero Che è un arbre magique O un dito che nasconde invece un paesaggio classico O una rocaille che nasconde l'acqua Quindi si continua nello spazio e nella dimensione Il ribaltamento dell'immagine della luce con Capur, Fontana E via via con l'idea proprio di pittura Quindi ancora Apollo che è poi una sorta di nuovo Eros Quindi il sogno, l'inconscio, il subconscio Con Dali, Halsman e Euklansky Quindi l'idea ancora della contemporaneità che si interfaccia con il classicismo E la natura come mimesi Quindi la panchina su cui il visitatore, noi tutti ci possiamo sedere È una panchina opera d'arte per vedere, grazie proprio a questi pensieri Anche il grande paesaggio di David Hockney O i nuovi quadri della collezione di Peggy Guggenheim Quindi l'idea è quella di accompagnarvi, ingannandovi Raccontando e parlando dell'arte come se attraversasse il tempo Attraverso un sogno, forse una palestra per la nuova percezione Temi e variazioni si completa, non voglio dire si comporta o si conclude Temi e variazioni si completa con un omaggio a Fausto Melotti E a Fausto Melotti che io devo il titolo di questa serie Cioè ha un lavoro, meglio una serie appunto di lavori di Fausto Melotti Tema e variazione Sono proprio state l'idea del titolo di questo ciclo di mostre Quindi fare un omaggio a Melotti in un momento come questo In un momento in cui l'arte italiana del dopoguerra è riscoperta internazionalmente Vuol dire non solo fare un omaggio a uno degli artisti più alti del dopoguerra Del secondo dopoguerra italiano Ma anche muoverlo e presentarlo attraverso 18 selezionatissime sculture Che parlano del suo sogno Cioè parlano della musica, parlano del suo rapporto con Mozart, con Bach Parlano di contrapunto, di sequenza e di un orfeo dimentico Che chiude appunto questa mostra Costituito da una sorta di sindone, un telo Ma anche da nastri magnetici che contengono musica La musica di Nono, la musica di Schoenberg Non sappiamo, forse Stokhausen Ecco, Melotti cita lo shock come forse una parte iniziale dell'arte contemporanea Ma dice in fondo, superato lo shock L'arte, ambirei a dire come temi e variazioni In realtà è un viaggio Grazie a tutti